Benvenuti nella rubrica Film al Cinema, dove si recensisce come da titolo un film appena visto in sala sottoscritto. Il film di oggi è Omen, l'origine del presagio. Cominciamo. Film di Arkasha Stevenson con Neil Tiger Free, Sonia Braga, Maria Caballero del 2024, Roma 1971. Margaret Daino è una novizia in attesa di prendere i voti, cresciuta in un orfanotrofio e ora anche lei è dedita a occuparsi dei bambini in un istituto. Tra questi trova la cupa inquietante Carlita, che per certi versi le ricorda la lei del passato, in quanto tormentata da strane visioni e costantemente rimproverata dalle suore. Qualcosa di sinistro e inquietante farà precipitare gli eventi e nulla andrà come previsto. Dopo un incipit solenne, dove sangue e vetri si spargeranno, si fa un passo indietro nel tempo e si viene catapultato in una Roma ostile, dove, tra le varie sommosse, è difficile rimanere tranquilli. Allora la chiesa che attende Margaret sembra un riparo da tutto questo. Il vociare continuo dei bambini in sottofondo, per quanto sotto in mente inquietante ne sembra una conferma, ma basta un urlo, per far presagire il peggio allo spettatore e per rompere la serenità del tutto. Poi, mentre le suore che mostravano alla protagonista la struttura vanno a controllare cosa sia successo, la protagonista rimane sola e fa il suo primo incontro con Carlita. Il tutto si carica di angoscia e per la prima volta nella narrazione Margaret avrà una sensazione che poi ritroverà spesso andando avanti con lo scorrere dei minuti, ovvero di essere totalmente sola. La protagonista appena vede il personaggio di Carlita ritrova gli stessi tormenti che la affliggevano alla sua età e subito cerca di trovare un contatto con lei, che sulle prime è alquanto scontrosa e inquietante. In più, le suore le intimano di non avvicinarsi troppo alla ragazza perché è tenuta pericolosa e violenta. Perciò si sente poco accolta appena arrivata nella struttura. La sua conquilina, anche lei suora, invece le mostra da subito affetto, ma sembra essere contrario a ciò che è considerato consolo dalla chiesa, avvezza una vita mondana e notturna e che finisce per convincere anche Margaret a uscire una sera. La sequenza ambientata all'interno di questo locale, dove le due sorelle si destreggiano tra alcol e corteggiamenti, è una vera e propria immersione nella mente della protagonista, che al contrario della sua amica è molto meno a suo agio nella situazione e vede ogni passo avanti nel corteggiamento come un passo avanti nella perdizione e spera che il tutto si fermi, mentre invece ogni cosa precipita, anche con l'ausilio di elementi orrorifici e soprannaturali che incrementano la grande tensione imbastita. L'opera, da questo momento in poi, ricalca in maniera abbastanza pedisseca la struttura narrativa del capolavoro di cui è prequel, a cui dipende delle sequenze adattandola al contesto e omaggiando il suo predecessore in modo sentito. Nell'essere così programmatico finisce talvolta per annoiare nel far intendere così facilmente allo spettatore cosa accadrà nella trama o nella prossima scena, ma il coinvolgimento è sempre alto. La protagonista si troverà, come già detto, sola e immersa nelle paranoie, perché contrastata dalle colleghe che o bravano la compagnia di Carlita o cercano di isolarla sempre di più, e soprattutto perché non si fida delle folli e spaventose teorie del personaggio di padre Lawrence che si fanno via via sempre più concrete. L'idea che la chiesa, pur di ottenere la fede auspicata dai suoi seguaci, sia disposto a tutto e affascinante nel suo essere carpenteriana e tremendamente senza spiragli di salvezza. Il finale lascia le porte aperte per un sequel, ricollegandosi allo stesso tempo perfettamente al primo film. Da vedere! Grazie! Grazie a tutti!